buona sera dallo stadio di Trapani tutto è pronto per Trapi Nuova Igea Virtus tutto è pronto quindi perché le due squadre possano dar vita alla decima giornata del girone I della serie D partiti Balla alza la testa va a cercare compagnino avanti li trova in craquel la sovrapposizione di Balla e anche di Pino il pallone per il 29 il cross il tocco con la mano il tocco con la mano abbastanza netto direi Balla al limite dell'area di rigore salta due uomini Balla area di rigore ancora il cross è basso ma dietro di lui c'è una nuova giocata all'interno dell'area di Guerriero lo stacco di Mascari attenzione al solito numero dieci che è lungo il suo tiro all'indirizzo di Yucai che in due tempi blocca il pallone senza grandi difficoltà però da registrare il mancino centrale bravo guerriero a saltare l'avversario superiorità numerica del Trapani che adesso in velocità con Mascari si porta al limite dell'area di rigore il tentativo di battuta da parte di Mascari c'è però la deviazione parte Kragel il cross all'interno dell'area di rigore nuvolo di giocatori il pallone che resta lì il pallone che resta lì vediamo un po' il cross di Kragel capannello di giocatori il tentativo da parte di Cagliardi ancora Kragel ma ancora va che ha sbagliato qualcosa di troppo in fase di tiro ma in fase di copertura è stato preziosissimo ancora va il pallone per lui il tiro e il gol tutto è pronto quindi per i secondi 45 minuti di gioco con Oliver Kragel sul punto di battuta il cross lo schema chiamato dal tedesco cross all'interno dell'area di rigore vanno a spizzare il pallone due in due occasioni alcuni giocatori del Trapani poi un altro tiro da parte di Pata al limite dell'area di rigore bravissimo ancora Mascari in questa occasione ruba il tempo ed il pallone Mascari con la sua maglia numero nove si infila Mascari 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 il talento di Agostino Mascari il ragazzo di Termine Merese che ha sfiorato la marcatura al cinquantasettesimo minuto gira il pallone per Gagliardi a quadro a centrocampo si passa per Kragel Kragel da lì può anche tirare la palla deliziosa che azione fantastica Alessandro Cangemi il pallone ancora una volta per un indomito Mascari mamma mia che lotta contro tutto e tutti pallone all'indietro per Balla è buona la giocata di Mascari Balla aria di rigore Balla la gira per Bà 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 e la parata continuando con questi numeri record su record ogni partita ogni domenica attenzione a Balla che si porta in avanti fuori contropiede Balla Mascari 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 se la lunga più niente e alla fine la formazione ospite a rituffarsi in avanti Pipitone con Emiliano Pino dietro vanno a marcare la fascia di destra attenzione a un pallone il gol Grazie a tutti.